Lunga attesa il Domino a Zagarella da Federico Fashion Style Abbiamo chiaramente qui, mettiamo dirette nelle dirette E poi abbiamo, vabbè, babysitter decisione Sto facendo la babysitter ma mi sto anche esercitando perché quest'anno voglio anche un figlio Ma io non dico niente, lui sta sorridendo Sta sorridendo il bambino, vedi, la zia sta già simpatica Ciao A domani No, adesso stia qua Allora domani Ciao Andate a ballare Ok Il suo compagno Mirko sono tornati a casa dopo una vacanza trascorsa con Maria Teresa Ruta E hanno subito deciso di fare visita ai loro amici Federico Fashion Style e Giacomo Urtis Quest'ultimo si è offerto di fare da babysitter E il bambino ha apprezzato tantissimo la sua compagnia Durante il tempo passato insieme, il piccolo si è divertito molto Regalando sorrisi e momenti di allegria Giacomo, con la sua simpatia e il suo spirito giocoso, è riuscito a far ridere il bambino Crando un'atmosfera spensierata e gioiosa La giornata si è così, concluse in un clima di felicità Con Gwenda e Mirko che hanno potuto godersi la compagnia dei loro amici Felici di vedere il bambino così sereno e divertito Un rientro a casa che ha portato sorrisi e momenti speciali Grazie a tutti! Grazie a tutti!